la serie numero nove sono la partenza Andrea Betti corsi numero uno Mattia Fabris in due Marco Pizzol la tre Carlo Maretto in quattro Federico Ambrosi in cinque Gabriele Pedrioli alla sei Massimiliano Sacchetto in sette Cristian Ciglia corsia numero otto dalla corsia numero quattro è Riccardo Miele che chiude in venticinque sessantotto la sua prova davanti ad Alberto Mesa venticinque